La polizia è a caccia degli immigrati violenti che ieri pomeriggio hanno fatto scoppiare la rivolta dentro e fuori casa a colori, la struttura di volontariato che ospita 28 profughi africani arrivati in Italia dalla Libia nella primavera 2011. La questura sta ascoltando molti testimoni, i responsabili saranno accusati di danneggiamenti e forse anche di sequestro di persona per avere rinchiuso per un'ora in una stanza due collaboratori e due dirigenti della casa. Nelle prossime ore ci sarà anche un vertice in prefettura tra i referenti per l'accoglienza, le forze dell'ordine e le cooperative. Certo il metodo di accoglienza che ci è stato chiesto e imposto non è stato del tutto corretto, il parcheggio delle persone senza prospettive è una cosa che non permette a nessuno di sapere come agire. Intanto i periti delle assicurazioni sono al lavoro per rilevare i danni che ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Tutto è successo per l'esasperazione degli immigrati giunta al limite. Dal 31 dicembre lo Stato non eroga più la diaria di 46 euro al giorno che permetteva a casa a colori di pagare vitto e alloggio ai rifugiati. In più la notizia che il comune di Padova avrebbe aiutato economicamente alcuni stranieri per espatriare pur di liberare un edificio comunale ha fatto perdere il controllo ad alcuni. Sono stato molto stupito da questo comportamento che non è giustificabile nella maniera più assoluta. Quelli che hanno fatto questi atti di violenza vanno puniti. Io so che ci sono attese deluse e frustrazioni grosse e non siamo noi purtroppo a dover rispondere di queste attese e di queste delusioni. Noi siamo operatori di accoglienza e abbiamo degli strumenti molto limitati per andare incontro alle attesi di queste persone.